ciao amica ciao amico mi chiamo marcello faccio questi video perché sono un appassionato di moto e ti chiedo di condividere il video e ti ringrazio oggi ti parlo di air macchi alla verde 250 del 1970 anzitutto voglio salutare l'amico warner che ha contribuito allo sviluppo del canale ed è un meccanico di auto che ha restaurato il suo managuti mx 50 del 89 la sua officina di riparazione d'auto si chiama wm auto service si trova in via san michele 15 a briccherasio in provincia di torino per un contatto immediato il numero di telefono è 3 8 22 39 7 95 e te lo dico perché c'è uno sconto speciale del 10 per cento se ti presenti con il nome cocco comunque proveniente dal canale ma oggi ti voglio parlare appunto di ala verde una motocicletta costruita dalle armacchie partire da 1959 fino a 1972 e nasce come versione sportiva della lazzurra da 250 cm cubici il classico monocilindico orizzontale delle armacchie derivato da quello della chimera ed è stato potenziato partendo dai 3,7 cavalli della chimera appunto a 16 cavalli una chimera una particolare moto carenata magari la vediamo non lo so vediamo quindi dicevo dal maggiorando di fatto il carburatore che è passato dai 22 mm ai 24 mm aumentando il rapporto di compressione con una valvola di aspirazione più grande quindi altra caratteristica il fissaggio del motore che il cambio a quattro rapporti ed è montato a sbalzo su un telaio in tubi d'acciaio e lamiera poi lo vediamo più nel dettaglio nella foto e vediamo un po di storia perché siamo nel 1963 quando armacchi con la partecipazione ormai da tre anni di early davison lancia sul mercato la seconda serie della alla verde che si distingueva dalla versione originale per diverse modifiche meccanico come la lubrificazione più efficace la frizione quattro dischi anziché tre nuovi impianto elettrico il forcello rinforzato e le caratteristiche estetiche che riguardavano il manubrio che veniva stato cambiato le cassette laterali e lo scarico quindi sostanzialmente la nuova versione che vediamo appunto in questa immagine caratteristica un'altra caratteristica che voglio evidenziare scusa è la gobba con cui si viene formato il serbatoio quindi a questa forma molto particolare che la caratterizza ma appunto anche il motore come puoi vedere è montato a sbalzo e dal cilindro praticamente orizzontale leggermente sollevato ma di fatto praticamente orizzontale quindi una moto che si presenta agile leggera e anche con una discreta potenza quindi vediamo il motore che è un monocilindrico in posizione orizzontale quattro tempi la distribuzione ad asti bilancieri con due valvole per cilindro la cilindrata di 246,2 centimetri cubici con l'alimentazione funita da un carburatore della dell'orto denominato ub24bs2 col diffusore da 24 mm raffreddamento ad aria la potenza massima di 16 cavalli a 6.500 giri al minuto il telaio formato da monotrave in tubi rinforzato con elementi stampati laterali mentre la sospensione anteriore formata da una forcella idraulica piuttosto tradizionale come il posteriore dobbiamo il forcellone oscillante con i due ammortizzatori che qui teleidraulici i freni sono ancora tamburo sono all'anteriore formato da un ruolo centrale il freno a singola camma con un diametro di 180 mm come l'altronde anche al posteriore la sella alta 740 mm la terra è una sella anche biposto quindi malgrado la sportività della moto c'è posto anche per due le ruote sono raggi da 17 pollici l'anteriore come il posteriore abbiamo poi un serbatoio da 17 litri un peso secco di soli 114 kg con la velocità massima dichiarata di 140 km orari che non sono niente male per una moto che ormai ha superato i 50 anni se ti è piaciuto metti like se non ti è piaciuto metti pure dislike ma iscriviti al canale attiva la campanella per due motivi primo gratis non ti costa nulla ma contribuisce alla diffusione del canale e ti ringrazio il secondo luogo faccio un video al giorno come puoi vedere quindi se sempre aggiornato aggiornato sui nuovi contenuti qui sotto i tuoi commenti sono sempre molto graditi ciao grazie e buona serata